Una quattordicessima giornata nella Serie A di calcio femminile condizionata ancora una volta dal maltempo con ben tre gare rinviate. E così la capolista Verona Bardolino ne ha approfittato per aumentare il suo distacco provvisorio in classifica al termine di una sfida dominata e vinta contro il Mozzanica. Vediamo infatti le immagini di questa sfida, una gara a senso unico con il Verona che non ha patito le assenze, quella cronica di Girelli e quella dell'ultima ora di Toselli. Una partita che ha visto davvero le ragazze di Longega fare un grosso passo in avanti, soprattutto sul piano dell'approccio. Partita ben condotta con una strepitosa Melania Gabbiadini che ancora una volta ha fatto la differenza. Non ha segnato ma ha fatto praticamente realizzare tre gol a Fatima Dayen da Rocha. Eccola qui la brasiliana, questo è il primo gol su assist di Gabbiadini. In fotocopia anche il raddoppio sotto un'abbondante nevicata a un Bardolino straripante. Staripante è un Bardolino che riesce a giocare con continuità nonostante il maltempo sia bloccando tante partite ed è chiaro che per una squadra che vuole ambire all'alto livello, quando non ti fermi mai rappresenta un vantaggio rispetto alle avversarie perché non spezzare il ritmo è molto importante. Oggi il Bardolino Verona ha dimostrato di aver superato le difficoltà che invece aveva avuto nelle settimane precedenti e quindi è piaciuto soprattutto perché è sceso sul terreno con la mentalità giusta, l'approccio giusto, l'approccio da grande squadra se vuole ambire ad arrivare in testa fino alla fine del campionato o comunque provarci fino all'ultima giornata, cosa che invece non avevamo visto in altre circostante. Ricordiamo la battosta contro il Brescia, quel giorno veramente una Bardolina dimesso che aveva disputato un brutto incontro e quindi credo che il mister Longega possa essere soddisfatto perché evidentemente qualcosa sta migliorando sotto questo profilo. Abbiamo visto anche il terzo gol di Daroccia che con questa tripletta sale sempre più sola in testa alla classifica, marcatori con 15 reti. Gabbianini come detto non ha segnato ma nonostante ciò è stata davvero la migliore in campo. Molto male la Mozzanica ma resta comunque un buon campionato fin qui quello della squadra del presidente Sarsilli. Questa dunque la partita tra Verona, Bardolino e Mozzanica ma vediamo la grafica grazie al contributo di calcedonne.it con gli altri risultati di questa quattordicesima giornata per capire cosa è successo nel computo del campionato. Come detto ci sono tre gare rinviate, sono quelle di Lazio-Firenze, Viera di Romagna-Torres e Venezia-Roma. Si disputano invece quattro partite oltre a quella che abbiamo visto. Il successo del Brescia 2-1 a fatica sul Chiasi Ellis, la vittoria larga del Tavagnacco sul Como e quella del Torino sul Milan. Che dire? Secondo me risultati in linea con le aspettative, non sappiamo al momento l'andamento della gara di Brescia però c'è da dire che mentre il Chiasi Ellis aveva giocato, lo ricordiamo anche settimana scorsa, tra l'altro lo avevamo trasmesso proprio noi di Rai Sport e quindi comunque sulla logica del ragionamento che ti facevo prima, dare continuità di prestazione in questo periodo è molto importante. Il Brescia era stato costretto al rinvio e quindi è chiaro che non è semplice poi dare tutto quello che si ha sul campo quindi credo comunque che sia una vittoria importantissima per questa squadra per continuare a dimostrare di meritare l'alta classifica e vorrei anche segnalare che il Tavagnacco che comunque aveva dimostrato di avere qualche difficoltà sottoporta con 5 gol oggi ha sicuramente dato dimostrazione che in terra fioriulana le cose stanno migliorando e quindi Mister Rossi con il suo lavoro sta cercando di sfruttare al meglio il potenziale delle sue ragazze. Eh sì, perché se andiamo a vedere anche la classifica dopo questa quattordicesima giornata notiamo, a parte il fatto che come vedete questa classifica è fortemente condizionata da partite che non sono state giocate, con l'asterisco le squadre che hanno una gara in meno con due asterischi, quelle che ne hanno addirittura due in meno però insomma il Brescia potenzialmente con la gara da recuperare potrebbe essere la nuova capolista di questo campionato insieme con la Torres perché potrebbero andare entrambi a 35 punti. Questa comunque è la classifica che denuncia, dalla quale si vince che là in fondo che in cima c'è un grande equilibrio e che là in fondo Milan e Roma sono messe maluccio è vero che la Roma ha due partite da recuperare? Sì, ha due partite da recuperare quindi comunque questo è importante soprattutto perché sarà fondamentale visto i play-out e i play-off che ci sono quest'anno è chiaro che è soprattutto fondamentale non arrivare ultimi e quindi non retrocedere direttamente ma avere la chance appunto di arrivare ai play-out questo fatto che comunque ha potenzialmente sei punti a disposizione potrebbe rappresentare un vantaggio anche se Milan e Roma fino a questo momento sono le squadre che stanno maggiormente faticando invece diciamo che da Riviera di Romagna in giù c'è grande equilibrio da parte di tutte le altre squadre e vorrei anche sottolineare che oggi il Torino comunque vittorioso per 2-0 sul Milan ha incamerato altri tre punti e quindi un Torino che continua a posizionarsi a metà classifica e quindi una squadra che sta disputando una buona stagione E la prossima settimana ci soffermeremo proprio sulla zona salvezza perché se possiamo vedere le gare che ci attendono nel prossimo turno ci sono tante sfide interessanti a partire dal derby Roma-Lazio che è sempre una partita molto sentita ma noi saremo a Como per seguire una gara importante appunto in chiave salvezza Como 2000 contro Riviera di Romagna queste e tutte le altre partite insomma la Serie A su Rai Sport si interessa davvero di seguire un po' tutto questo campionato perché è interessante anche in cona E' interessante soprattutto quest'anno l'equilibrio regna in testa come in fondo alla classifica questo rende il campionato più avvincente e soprattutto non prevedibile e questo è quello che sta appassionando anche maggiormente i tifosi e costringe tutti gli addetti ai lavori dagli allenatori alle calciatrici ai dirigenti stessi di dover fare un ottimo lavoro se si vuole primeggiare sugli avversari e quindi questo consente anche al fatto di avere una professionalità necessaria per poter emergere e quindi dare lustro a tutto il calcio femminile E' tutto! Alla prossima settimana!